buongiorno a tutti e bentrovati alla rubrica domanda risponde l'argomento di oggi è il rinnovo del contratto di mobilità 2022 2025 prima domanda quando sarà rinnovato il contratto per la mobilità dei docenti e quando conosceremo i tempi per presentare la domanda allora il rinnovo del contratto della mobilità del triennio 2022 2025 dovrebbe avvenire entro dicembre 2021 l'ordinanza ministeriale che regola modalità e tempi per l'anno scolastico 2022 2023 quasi sicuramente sarà emanata tra gennaio febbraio 2022 entro il mese di febbraio massimo marzo 2022 sarà possibile molto probabilmente presentare l'istanza di mobilità territoriale e professionale anche per il personale ata domanda numero 2 i docenti soddisfatti su scuola della mobilità 2020 21 possono fare domanda di mobilità 2022 2023 oppure saranno bloccati di norma i docenti soddisfatti in una preferenza puntuale cioè in una scuola in una preferenza di scuola nella mobilità 2020 2021 restano bloccati per un triennio nella scuola di titolarità dunque 2020 21 2021 22 2022 23 fanno eccezione al suddetto blocco i docenti che pur essendo stati soddisfatti su una scuola su una preferenza puntuale erano stati trasferiti d'ufficio oppure domanda condizionata e anche i docenti che avendo una precedenza ai sensi dell'articolo 13 del contratto collettivo nazionale integrativo di mobilità 2019 2022 non sono stati trasferiti nel comune o nel distretto subcomunale in cui si applica la precedenza e posseduta domanda numero 3 il personale ata ex co 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 entrato in ruolo in orario part time e poi passato full time potranno fare domanda di mobilità nel per l'anno scolastico 2022 2023 fino ad oggi il personale ata ex co 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 entrato il ruolo nel 2019 2020 anche in stato di part time e poi passato in stato giuridico di full time è rimasto fermo fino alla mobilità 2021 2022 nella medesima scuola di titolarità adesso con la mobilità 2022 2023 e dunque anche con il nuovo contrattuale relativo è presumibile che anche per questa categoria di personale ata venga trovato un accordo che consenta loro di fare la domanda di mobilità ringraziamo tutti i nostri telespettatori per l'ascolto ci vediamo il prossimo mercoledì arrivederci